Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube è arrivato finalmente il momento di andare a fare una bella analisi sciotta di carte bustate col primo evento di FIFA, quello dei Ruler Breakers, evento di Halloween se così lo possiamo chiamare, che va a sostituire quindi l'evento degli Scream che ci aveva accompagnato negli ultimi due anni abbiamo il Team 1 appena uscito, settimana prossima poi ovviamente uscirà il Team 2 come l'anno scorso ci ha abituato EA, ossia a far uscire per evento il primo team durante il lancio e poi al venerdì successivo un altro team quindi senza perderci in chiacchiere visto che il video verrà abbastanza lunghetto cambiamo immediatamente scena e andiamo ad analizzarci questi giocatori eccoci qua, questi sono tutti quelli che sono i giocatori usciti e partiamo quella che è la nostra analisi dal ben Enrico Cane Enrico Cane che come potete vedere ha subito un boost incredibile per quanto riguarda la velocità ma lo andremo ad analizzare 1,88 di Cristone, alto alto, 3 di mosse abilità e 4 di piede debole quindi sapete che quest'anno le mosse abilità contano tanto quindi per quanto mi riguarda già questo è un grosso deficit per quanto riguarda il buon Enrico Cane andando ad analizzare le stats questo effettivamente ha ricevuto un bel boost in velocità veritiero sia in accelerazione che in velocità scatto però non vi dimenticate che si tratta di un Cristo di 1,88 che ha 87 di forza, bello pesante non vi aspettate che questo in game sarà scattante come una gazzella tutt'altro per quanto riguarda statistiche di tiro chiaramente tanta roba ma neanche così tanto è perché 87 di potenza tiro un po' in finalizzazione 90 è chiaro tanta roba per quanto riguarda poi le statistiche dei passaggi abbiamo sia il corto che il lungo veramente on point gli hanno addirittura alzato sia agilità che equilibrio anche se comunque sempre inficiato dalla forza 87 ottima la reattività ottimo anche l'attributo di freddezza buono il controllo palla quello che è il mio giudizio diciamo finale su sto Kane è che vista quella che è la situazione generale io opterei per un suo utilizzo magari da esterno se effettivamente questo dovesse essere veloce sfruttando quello che è diciamo l'andare avanti dritto con ignoranza finte di tiro di prima eccetera questo a sportellate avanti ci va diciamo paragonato un po' a Cristiano Ronaldo paragonato un po' eh non ci fraintendiamo non sto dicendo che è Cristiano Ronaldo anzi ma sicuramente questo non può fare la punta perché da punta bisogna meno di 5 skill sicuramente è bello piantato a terra non se gira quindi Kane rimandato a posizione di esterno vediamo se può workare prossima carta è quella di Laporte questo veramente tanta roba un metro e 89 due di massabilità trepide e debole parliamo di un difensore centrale con 77 di accelerazione 84 di velocità scatto per un parametro di velocità di 81 quindi tanta roba ottimi passaggi sia il corto che il lungo ottima la freddezza peccato agilità ed equilibrio ma comunque parliamo di un difensore ottima reattività buon controllo palla tanta roba le statistiche difensive ottima l'aggressività in maniera tale e questo significa che si attacca bene agli avversari ottima la forza resistenza e elevazioni ci interessano relativamente questo qui andrà a costare secondo me abbastanza non andrà a costare poco io vi dico che il rapporto qualità prezzo secondo me magari tra lui e un Gomez andrei a preferire sempre un Gomez se Gomez costa meno anzi magari Gomez adesso costo la porta andrà a scendere se invece avete bisogno magari di un difensore centrale francese perché sappiamo bene che tanti utilizzano Varan questo link a Varan cosa che secondo me gli farà aumentare ancora di più il prezzo ed è sicuramente tanta roba raga secondo me al momento uno dei migliori difensori che abbiamo sul gioco quindi il buon Laporte consigliatissimo tanta roba adesso abbiamo la terza carta che è Douglas Costa Douglas Costa 5 dimostriabilità 3 di piede debole quindi già vi fate un'idea quando vedete 3 di piede debole dite cavolo 3 piede debole ok quest'anno non conta tanto però meglio da esterno per quanto riguarda le statistiche di velocità addirittura questa carta è un po' più lenta di quella che è la sua versione base ma sapete che questo evento appunto va a reworkare le carte anche se significa magari andare a depotenziare alcune stats e aumentare le altre è un evento un po' esotico diciamo così però tanta roba comunque 90 di accelerazione 89 velocità scatto non ci fraintendiamo accompagnate anche da un bel boost per quanto riguarda finalizzazione potenza tiro e tiro dalla distanza anche tiro al volo e anche posizionamento in attacco buon passaggio corto una mea il passaggio lungo quindi un po' mmm ottimi ovviamente i parametri di agilità questo palla al piede è tanta tanta roba controllo palla 93 freddezza 82 un po' al limite peccato anche la resistenza effettivamente 72 di resistenza è un po' così e così però per il resto sto da class costa per me consigliato se lo riuscite a linkare per fare l'esterno è veramente veramente anche lui diciamo promosso abbiamo adesso il buon Ciruzzo Mertens questo qui sarà sicuramente il protagonista di tutte quelle che sono le serie A competitive che stanno girando al momento 4-4 1,69m 92 di accelerazione 84 velocità scatto anche lui comunque veloce non velocissimo ma veloce ottime le statistiche di tiro 88 potenza tiro 92 finalizzazione questo butta le porte a terra buono il passaggio corto discreto il passaggio lungo qui mi preoccupa tantissimo freddezza 76 ragazzi perché le altre statistiche sono tutte quante on point sta freddezza 76 mi fa sentire puzza peligro pericolo allarme rosso occhio Mertens non lo so 76 di freddezza mi lascia un po' perplesso perché quando fanno queste carte super bustate gli mettono 76 di freddezza è sempre un campanello d'allarme quindi Mertens per me ovviamente valido occhio però alla freddezza potrebbe cagarsi alcune occasioni in determinati momenti passiamo a un altro belga di serie A il buon Rajan Angolan grande ninja giocatorone che ci ha fatto sognare in tutti i titoli precedenti 1 metro 76 alto alto classico centrocampista box box 3 mosse abilità 3 di piede debole bel boost in velocità riceve con 85 di accelerazione 85 di velocità scatto ottime statistiche anche per quanto riguarda il tiro con potenza tiro 89 92 di tiro alla distanza meno la finalizzazione ottimi passaggi sia il corto che il lungo buono equilibrio reattività freddezza controllo palla un po' meno l'agilità ma comunque parliamo di un mediano 77 ci sta tutto le cose che più mi intrigano sono comunque le statistiche difensive ottime e per quanto mi riguarda la forza a 77 e l'aggressività a 90 che vuol dire che questo regà è un mastino con l'L2 e viene a mordere le caviglie sta tutto ingrifato non vi molla manco per un secondo questo qui è veramente tanta tanta roba per me ovviamente al momento miglior centrocampista in serie A sia per quanto riguarda il ruolo di CC che di CDC fa tutto quanto alla perfezione e secondo me non costerà manco troppissimo sto Nangolando magari all'inizio si è che sarà ipato però piano piano si sgonfierà se avete magari intenzione di poterlo ibridare con Mertens De Bruyne cose con una Premier magari volete Nangolano Pogba ma secondo me per quanto riguarda la difesa ci potrebbe stare anche di più sto Pogba in rapporto un po' più difensivo e comunque lui anche davanti dice tranquillamente la sua prossimo giocatore che analizziamo il buono campo su 1,88m alto alto 4 mosse abilità e 3 di piede debole ovviamente si tratta di un giocatore veloce ma neanche così veloce per quanto riguarda la posizione di esterno buone le statistiche di tiro in particolare 88 finalizzazione potenza tiro 87 ottime statistiche di passaggio sia il corto che il lungo mi preoccupa un po' 81 di agilità e 75 di equilibrio visto che comunque parliamo di un giocatore di 1,76 discreta la freddezza tuttavia questo qui è un giocatore che io non è che vedo granché nelle nostre squadre certo magari in liga non è che ci sono questi grandi esterni ma io vado a preferire sempre un Porto a sto Campos piuttosto che appunto andare a prendere lui che comunque costerà anche qualcosa in più quindi diciamo che Campos per me bocciato sempre meglio un Porto piuttosto che lui prossima carta invece un giocatore al quale bisogna alzarsi e iniziare a tremare ovvero il buon Marco Sciorente 1,84m alto alto altro 3,3 riceve un importante boost in velocità con 80 di accelerazione 89 di velocità scatto statistiche di tiro un po' me ma ottime statistiche di passaggio sia corto che lungo accompagnate anche da buone statistiche anzi ottime statistiche difensive abbiamo 90 addirittura di intercettazione 87 di lettura difensive 88 di contrasto in piedi peccano un po' le statistiche di dribbling in particolare mi preoccupa un po' quella che è l'agilità 69 e la freddezza 75 ottimi invece i parametri di forza 83 aggressività 85 stesso discorso in angolano questo qui vi si attacca addosso alle caviglie ve le morde ve le mangio e vi porta via il pallone quando vi non me lo aspettate quindi Marco Sciorente GG promosso continuando abbiamo il buon mano e il lazari insomma mi fa un po' sorridere da Lazzie alto alto 1,74 3,3 buone le statistiche di velocità finalizzazione 90 addirittura ma pochissima potenza tiro passaggio corto ok in lungo freddezza 80 campanello d'allarme quando vedete la barra della freddezza che è verde chiaro e non verde scuro vedi campanello d'allarme eccolo sirena non va bene mi puzza resistenza 91 on point beh che dire sicuramente un buon esterno in serie A ma piuttosto che andare a prendere lui magari ci vado a piazzare che ne so un politano un gervigno a 7 voglio dire sto Lazzari non è che mi fa proprio esultare di gioia visto che diciamo non è carne né pesce quindi diciamo un po' bocciato il buon Manuel Lazzari un'altra carta molto interessante sto a San Camara terzinaccio 1,68 3,3 ottima le statistiche di velocità un po' me quelle di passaggio ottime le statistiche di agilità equilibrio reattività dribbling un po' la freddezza anche qui 79 linea verde campanello d'allarme no stavolta non sono e quindi diciamo un po' così e così ma ottime le statistiche difensive ottima anche l'aggressività l'unica cosa che mi spaventa è che appunto è alto 1,69 quindi diciamo che rischia di essere un po' bullizzato da quelli che sono gli avversari soprattutto quelli fisici che girano quest'anno ma comunque a prezzi contenuti questo può essere un ottimo terzino potrebbe anche essere una discreta alternativa a mendico allora vi serve un terzino francese da provare quindi diciamo né promosso né bocciato diciamo ok il buon il buon camarà continuando abbiamo Denzel Danfris un altro terzinaccio che abbiamo imparato a conoscere negli anni che riceve ogni anno prima o poi una carta bustata 1,88 alto alto 2 di mosse abilità 3 di piede debole 85 per quanto riguarda la velocità quindi riceve un boost ma comunque non velocissimo visto che comunque è anche un cristone buone per quanto riguarda ovviamente le statistiche di dribbling addirittura 80 di equilibrio 82 di agilità 88 di reattività i passaggi sono però un po' così e questo per un terzino quest'anno che deve lanciare gli esterni è un po' un problema e per quanto riguarda la forza anche lì ci siamo pecca un po' l'aggressività diciamo che questo Danfris solitamente si utilizzava per andare a linkare il buon il buon Virgil ma secondo me quest'anno è sempre meglio optare per magari Virgil Semedo è un'altra carta che è l'Inca perché sto da un frissa al momento mi sembra un po' pesante in game non lo vedo pronto a fronteggiare quelli che sono le frecce dei vostri avversari quindi secondo me diciamo not stonks il buon il buon Denzel stessa cosa vale per questo André 72 di velocità e basterebbe già questo 1,80 3,3 diciamo una cartaccia veramente una cartaccia non vedo come poter andare a utilizzare questo giocatore al momento anche se comunque quelle che sono le statistiche di passaggio sono ok quelle dribbling difese e fisico erano anche buone però diciamo che non vedo come andarlo ad inserire onestamente in nessun team piuttosto utilizzo Sissoko è buona passiamo invece a quelle che sono le carte relative a SBC e obiettivi se ho capito bene Nagi Williams è un SBC e poi avremo invece la carta obiettivo sto in Nagi Williams 4 immossabilità 2 di piede debole campanello d'allarme no punta centrale non ruoli centrali esterno lo vedo da esterno 1,86 88 di velocità ovviamente tanta roba ottime le statistiche di tiro 89 di finalizzazione 96 addirittura di potenza tiro passaggio corto ok lungo un po' una pippa per quanto riguarda le statistiche di dribbling ci siamo ma mi preoccupa il 68 di equilibrio che lo pianta a terra con le radici questo non si gira granché anche controllo palla 81 reattività 83 chiudono il cerchio 86 di freddezza invece ci siamo per quanto riguarda le statistiche di fisico anche qui l'85 di forza boom contribuisce ancora di più a ancorare il nostro Inaki Williams per terra però diciamo che se lo volete utilizzare da esterno lo andate a pagare poco potete utilizzarlo da esterno ma per il resto diciamo che non non è che vedo questo Inaki Williams nelle nostre squadre neanche in quelle degli avversari onestamente e andiamo a chiudere il cerco con il buon mucchiele timido si mangiucchia le unghie questo qua è tanta roba 1,87m 3,3m 85 di accelerazione 93 velocità scatto quindi un fulmine di guerra i passaggi mi preoccupano 76 di corto e 73 di lungo ottime 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 le statistiche di dribbling agilità 85 equilibrio 85 reattività 85 dribbling 85 controllo della palla 86 freddezza 84 le statistiche difensive sono un po' mh 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 perché lettura difensiva 72 è un po' un problema quest'anno ci vuole una lettura difensiva adeguata per far sì che il giocatore si muova appunto in automatico e faccia autoblocchi eccetera eccetera però comunque ci possono stare un ulteriore problema è l'aggressività 77 questo vuol dire che magari spesso si ritroverà a perdere quelli che sono contrasti eccetera eccetera magari sarà un po' pigro in quelli che sono anche quelle le seconde palle sai le palle vaganti eccetera buona la forza buona la resistenza e anche l'elevazione diciamo che si tratta secondo me di una carta che potrebbe valere più magari uno switch con un difensore centrale portato a terzino piuttosto che il ruolo vero e proprio di terzino perché ha alcune caratteristiche che non mi fanno proprio impazzire però anche qui un obiettivo quindi un obiettivo regola aurea obiettivo carta gratis se sblocco non succede niente quindi potete tranquillamente sbloccarla provarla e vedere il buon nord di mucchiele come va quindi ragazzi abbiamo fatto anche secondo me prima del previsto visto che diciamo è stata un'analisi abbastanza lineare spero che il video vi sia piaciuto vi torni utile mi raccomando vedetelo prendete ve lo mangiate ve lo gustate ve lo fate quello che volete utilizzatelo però like commento fatemi sapere che ne pensate di queste carte e noi ci vediamo ragazzi lo sapete ogni giorno in live su twitch un salutone ciao ciao ciao